Ciao amici, sono Margo Gasco, il titolare del negozio di strumenti musicali Music Shop Italia che si trova a Mondovi in via Beccaria 19 barra C. Vai con la sigla! Ora ragazzi, un breve video solo per spiegarvi questa cosa. Vuoi cambiare il colore alla tua chitarra? Vuoi cambiare il colore alla tua strato? Non ti piace più? Vuoi farla rosa, viola, lilla, azzurro, arancio, con le stelle? Anche la tua chitarra classica? Vuoi cambiarsi colore? La tua chitarra acustica? Vieni da noi e noi ti cambieremo il colore alla tua chitarra. Al Music Shop Italia, solo al Music Shop, puoi cambiare il colore della chitarra. Ciao a tutti! Grazie a tutti!